ciao a tutti da bonsai italia ben trovati andiamo avanti con i nostri video dopo aver visto le potature primaverili riguardanti le caducifoglie vedremo poi più avanti anche la potatura primaverile per quanto riguarda il sempreverde ovviamente ancora per i sempreverdi bisogna un po aspettare ancora un po presto per effettuare la potatura primaverile su quelle piante lì comunque poi vedremo anche lì come si affettua la potatura sul primaverile sul sempreverde detto questo in questo nuovo video tratteremo un argomento molto molto importante per quanto che riguarda praticamente la fase vegetativa di un bonsai come ben sapete ci sono varie fasi vegetative di una pianta ovviamente la pianta in inverno in dormienza poi ai primi caldi comincia a confiare le gemme le foglie escono e lì comincia la fase tutta la fase vegetativa della pianta fino a tornare poi in autunno quando la pianta perde le foglie e ritorna nuovamente in dormienza per ogni fase vegetativa della pianta dobbiamo avere delle accortezze non sono tutti i mesi tutti i mesi uguali le potature sono diverse mese per mese stagione dopo stagione e quindi dobbiamo stare attenti anche a questo di fronte a voi vedete una pianta di acero è un acer palmatum varietà de socio la varietà più pregiata per quanto riguarda gli aceri gli aceri palmati infatti ha un costo molto molto alto e quindi ora vi farò vedere come se comporta come si comporta la pianta e abbiamo preso oppure su questa pianta qui proprio per perché la pianta ha già allungato le proprie gemme per farvi capire come dovete comportarvi su piante del genere ovvero che su piante dove praticamente il germoglio si allunga quindi vedrete lunghe estensioni e non sapete praticamente se può dare la pianta e quando può dare la pianta perché è una cosa molto importante da sapere allora innanzitutto mi aveva fatto una premessa nel senso che il bonsai ha un ciclo di vita quindi praticamente quando la pianta è giovane praticamente cosa fa fa queste lunghe cacciate queste lunghe cacciate sono dovute praticamente alla giovane età della pianta e potrebbero essere anche scaturite da un rimbaso quindi quando la pianta viene rimbasata questa cosa l'abbiamo già detta comunque la ridico la pianta si sente aggredita e quindi praticamente fa queste lunghe cacciate queste cacciate noi non dobbiamo assolutamente toccarle perché perché la pianta è ancora in formazione queste lunghe queste lunghe cacciate anche se non sono belle ovviamente da vedere perché tolgono praticamente armonia alla pianta invece per la pianta sono molto importanti perché praticamente vanno a dar vigore all'albero quindi la pianta con queste lunghe estensioni prende vigore e praticamente la pianta praticamente sarà molto molto più forte più forte ad effetti patogeni come possono essere marciumi radicali attacco parassitario quindi dobbiamo assolutamente tenere queste lunghe cacciate ovviamente su piante già formate quindi piante per i propri piante già formate intendo piante che abbiano minimo 25 30 anni di coltivazione quindi con palchi già formati interno di corti foglie piccole tutte quelle cose molto difficile da ottenere durante tutto l'arco tutta la vita della pianta cioè queste sono le cose che dobbiamo negli anni cercare di ottenere per avere un ottimo bonsai ovviamente lì queste lunghe cacciate non ci saranno non ci saranno perché perché innanzitutto la pianta è matura quindi non farà queste lunghe cacciate soprattutto perché lì effettueremo la pinzatura sui germogli cosa che non possiamo assolutamente fare su piante del genere qualcuno di voi ci ha detto che di voler effettuare la pinzatura addirittura su piante da fiore da frutto non si fa assolutamente è una cosa molto pericolosa per la pianta quindi soprattutto anche su piante da fiore da frutto non si effettua la pinzatura del germoglio quindi se germoglio si allunga dovete lasciarlo allungare e lasciarlo così ovviamente non sarà sempre così perché perché poi andremo a effettuare la potatura estiva la potatura estiva poi la vedremo più avanti sia per le caduce foglie che per i sempreverdi è una potatura praticamente chiamata potatura estiva o di sfoltimento praticamente che cosa andremo a fare andremo praticamente a intervenire su su queste lunghe cacciate e praticamente andremo a ridare compattezza all'albero quindi andremo intervenire su queste lunghe cacciate quindi la pianta e diciamo riprenderà una forma più più bella e anche gradevole da vedere anche perché così facendo daremo forza alle gemme che sono nella parte interna del ramo quando faremo questo tipo intervento ma innanzitutto potatura estiva non dobbiamo aspettare l'estate quindi vedere che entra l'estate quindi guardare il calendario ed effettuare la potatura no assolutamente all'incirca io credo che fra un mese un mese e mezzo le piante cominceranno già ad avere praticamente quella quella consistenza per quanto riguarda il ramo quindi a lignificare leggermente il ramo e la foglia comincerà ad avere colorazioni verde intenso perché dico dico questo perché adesso praticamente su una pianta del genere dove la foglia è rossa e quindi la foglia è nuova non possiamo assolutamente andare a intervenire con la potatura estiva la foglia è nuova il ramo è molto tenero è appena uscito e quindi non possiamo andare intervenire interverremo quando quando le foglie saranno verdi mature il colore di un verde intenso e quando il ramo e comincerà ad avere una colorazione verdastra praticamente quasi si comincerà non dica a lignificare ma quasi quindi anche il ramo cambierà colorazione a quel punto quando la pianta vedremo che non allungherà più le estensioni quindi rimarrà così e le foglie saranno verde scuro quindi di un verde intenso a quel punto potremo effettuare la potatura estiva quindi fino a quel momento non potete mettere le mani sulle piante se hanno estensioni del genere quindi una cosa da se questa quadra sapere molto 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 importante questa pianta qui adesso le foglie rosse poi cominceranno a diventare rosse e verdi e poi verde totalmente verdi per poi ritornare e rosse in autunno questo è anche il pregio dell'acer palmatum desogio per questo che ha un costo molto alto ok fatta questa questa premessa adesso voglio farvi vedere la pianta come si è comportata dove poi andremo a intervenire e una serie di aspetti molto molto importanti allora innanzitutto prendiamo in considerazione ad esempio questa cacciata qua allora si guardiamo bene questa cacciata praticamente che cosa che cosa è successo è successo questo che qui c'era praticamente una gemma che noi abbiamo lasciato praticamente in autunno qua è partita si è aperta e ha fatto questo lungo ramo praticamente ha prodotto questo lungo ramo e qui avremo nuova ramificazione e non è cosa da poco quindi avremo due gemme qui due quattro sei guardate 8 10 ci sono addirittura 12 gemme su questo ramo qui che cosa faremo adesso lasceremo il ramo in questa maniera qui come vedete in punta qui comincia a uscire un nuovo germoglietto eccolo qua ora ve lo faccio vedere meglio eccolo qui allora con la pinzatura che cosa farei che cosa facciamo noi dovremmo andare a togliere questo germoglio qua praticamente e siamo già vi dico abbastanza oltre che proprio la foglia non deve neanche proprio uscire praticamente dovrebbe essere per essere una cosa proprio corretta dovrebbe essere questo germoglio proprio centrale cioè questo questo qui e questo germoglio qui centrale da togliere non so se si riesce a vedere bene quello che neanche ha aperto la foglia quindi lì può essere effettuata la la pinzatura che però noi non effettua non effettuiamo perché perché una pinzatura fatta su una gemma posizionata nell'apice di questo ramo è praticamente inutile cioè non serve a niente il massimo che succederà e se noi andessimo andassimo scusate a effettuare la pinzatura qua praticamente il ramo più di qui non si muove vi consiglio di non farlo perché tanto comunque sia più di questo il ramo vedrete che non si allungherà farà qui qualche altra cacciata più di questo non si allungherà e anche perché vi consiglio di non farlo proprio nel discorso fatto poc'anzi cioè che dobbiamo far allungare praticamente più possibile il ramo quindi il ramo deve estendersi tanto ovviamente adesso vi dico che andremo effettuare la potatura primaverile su questo ramo e quindi tutta quella parte di ramo andrà eliminato quindi riavremo la ramificazione perché a noi quello che serve non è questa parte qui esterna ma sono queste gemme che sono qui all'interno queste qui sono le gemme che dobbiamo assolutamente salvaguardare quando andremo a effettuare la potatura estiva avremo uno stimolo delle gemme e e quindi qui la pianta potrebbe emettere nuova ramificazione un'altra un altro aspetto da sapere è che con la potatura estiva dobbiamo andare a togliere anche delle cacciate che vanno a fare ombra sulla pianta quindi magari rami che stanno sopra altri rami che vanno a fare ombra vanno eliminati accorciati perché la pianta deve tornare ad avere più luce possibile nella parte interna soprattutto la parte più caotica sarà la parte alta della pianta e quindi dobbiamo andare a togliere cacciate che magari vanno a dare vanno a dare fastidio alla pianta però sono sono tematiche che vedremo con la potatura estiva adesso non voglio più di tanto confondervi le idee perché la potatura estiva ha una tecnica che poi vedremo quando sarà il momento quindi adesso quello che io vi dico è di lasciare queste lunghe cacciate quindi adesso vi ho fatto vedere come praticamente come si è comportato il ramo dopo che la pianta ha aperto le gemme che avevamo lasciato praticamente in primavera un altro esempio lampante è questo qua per esempio questo ramo qui c'è questo ramo molto lungo e qui anche qui il discorso è lo stesso cioè la pianta cosa ha fatto ha aperto qui avevamo lasciato quattro gemme infatti vedete che la pianta delle quattro gemme cosa ha fatto c'erano due qui qui dove il bastoncino di bambù due e due quattro quindi 224 qui una una gemma qui è saltata non è aperta è uscito solamente questa ramificazione che è molto importante dovremmo tenerla dopodiché questa cacciata qui ha prodotto altre foglioline quindi qui avremo altre gemme questa e così formeremo la ramificazione la gemma poi la quarta gemma che abbiamo lasciato in primavera si è aperta ed ha prodotto questo lungo ramo quindi poi qui noi andremo a intervenire su questo lungo ramo qui proprio per dar forza e alla parte interna ovviamente con la potatura estiva non adesso stesso discorso ovviamente poi andrà fatto nella parte nella parte alta della 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 pianta quindi dove avremo lunghe cacciate anche nella parte alta della pianta eccola qui interverso nel medesimo modo quindi andremo ad accorciare poi con la potatura estiva queste lunghe cacciate che escono dalla silhouette dell'albero proprio per ridare triangolarità alla pianta e per salvaguardare le gemme interne che praticamente si sono si saranno formate dalle dalle estensioni del germoglio quindi qui avremo delle gemme nuove che dovremo andare a lasciare dopodiché poi una volta che avremo effettuato la potatura estiva sulla pianta la pianta questa molto probabilmente non farà più lunghe estensioni perché il lacer palmatum de sojo ha una sola vegetazione all'anno però magari poi altre piante hanno più stati di vegetazione durante l'anno e quindi magari poi dovrete effettuare la potatura estiva più di una volta ovviamente questo discorso non vale per lacer o de sojo però questo è un discorso a parte adesso non voglio stare a confondermi le idee su questa cosa qui comunque se poi sarà necessario dovrete nuovamente rintervenire sulla sulla pianta con la potatura estiva fino a poi arrivare in un periodo autunnale quando le foglie peccatranno e poi lì come io abbiamo insegnato andrete a effettuare la potatura autunnale sulla pianta ok spero che questo video vi sia servito riteniamo che sia un video molto importante perché molte persone appena vedono che il germoglio si allunga prendono e tagliano e invece non va assolutamente assolutamente fatto quindi mi raccomando questo è un aspetto molto importante proprio perché così le vostre piante prenderanno vigore sono piante giovani e quindi vanno trattate in questa maniera qui quindi tecniche come pinzatura e defogliazione non le effettuiamo ma le faremo su piante molto mature quindi piante già abbastanza formate ok detto questo un saluto da parte di Bonsaritalia e noi ci vediamo ovviamente nei prossimi video ciao